Sostenere Novara Jazz significa sostenere la grande musica internazionale nei più bei luoghi di Novara e della provincia. Siamo un'associazione no profit, da molti anni, 18 ormai, portiamo la grande musica a Novara, ma soprattutto siamo impegnati in un progetto sociale che coinvolge bambini, anziani e persone deboli. Sostenete i nostri progetti nelle biblioteche, sostenete il nostro progetto Novara Jazz Kids che porta la musica negli asili, nelle scuole e porta i bambini ad apprezzare la musica e a sviluppare le proprie capacità cognitive. Un progetto inclusivo che coinvolge i quartieri, le periferie e le categorie protette, Donate per sostenere il lavoro dei giovani, delle maestranze, dei tecnici dello spettacolo. Donate a Restart, un piccolo gesto per sostenere la musica e la cultura a Novara.